Ciao amici, bentornati in questo nuovo video. Siamo nell'evento addestramento draghi. Piccola premessa, mi sta molto sulle scatole questo evento come credo alla maggior parte delle persone. Perché? Innanzitutto, di solito, già non si trova cibo. Quindi si fanno attacchi, ti so, per quando magari uno vuole addestrare qualcosa di grosso, fanno attacchi da 30, 40, massimo 50k, e magari si possono usare, che ne so, i potenziamenti, o addirittura due draghi, a volte se difendono, insomma, meglio sempre attaccare quelli offline. Quindi, di solito, una bella scocciatura, dar da mangiare a un solo drago, poi magari bisogna mandarla, rifarsela mandare, quindi rimbalzare con un compagno. E vabbè, mettere addirittura un evento che richieda di fare punti rubando cibo, quindi usando cibo, è una cosa abbastanza... Vabbè, non voglio dire niente, insomma, di cattivo, ma si capisce. Però, questo c'è, e purtroppo questo ci dobbiamo tenere. Quindi io ragiono come mi sta sulle scatole, ma cerco di fare il massimo possibile per prendere più risorse possibile. Quindi rubini, sigilli, cose. Diciamo un evento, lo considero un evento in difesa questo. Pazienza, non me lo aspettavo, avevo consumato gran parte dei pacchetti cibo che avevo, ma va bene. Andiamo a vedere i premi. Allora, mi sembra che ci siano più sigilli del solito, perché se abbiamo 50, 100, 125, di nuovo 125, poi 175, 200, 225, 250, 450 e finalmente hanno messo il premio a un milione abbiamo 500 e poi a due milioni di nuovo 500. Meno male, perché, ad esempio, di solito io punto sempre 450. Quindi, vabbè, cerco di arrivare a 450.000. Se cerco di fare il massimo, magari dico, dai, va bene, mi impegno così, io rubo cibo, se ne troverà, arrivo a un milione. Oh, nel senso, va bene. E invece prima magari ti mettevano i 450 sigilli magari a 700.000 e poi i 500 a due milioni. Quindi, veramente, ecco, hanno messo, fatto male a mettere l'evento del cibo, ma hanno fatto bene a fare questa ripartizione dei sigilli. Mi piace molto. Allora, si ottengono punti per, dando da mangiare ai draghi, 10 di cibo valgono un punto. Quindi, come vale per la legna, diamo da mangiare, vale un decimo, insomma, di quello che diamo da mangiare. Ad esempio, il drago che va a addestrare mi dice 7,61 di cibo sarebbero 76,000 punti. Allora, quindi bisognerebbe addestrare ai draghi. Per quanto mi riguarda, sono rimasto abbastanza fregato, perché nonostante ho generato un drago Garnet e nell'evento per prenderla, per evolvere i draghi, evento Garnet dice genera un drago Garnet, io l'ho generato, ma non l'ho incubato ancora. Ecco qui, ho ancora l'incubatrice a fare. Che mi voglio tenere l'accelerazione, quindi aspetto. Purtroppo metterò i draghi ancora a zaffiro e quindi non ho i draghi perché se no avevo, che ne so, Algor, potevo portarlo, mi pare, o al 39 o al 40, non so quando si ferma con un solo drago Garnet generato e quindi potevo già portarlo al 39 o al 40, magari, che ne so, erano 6-700 mila di cibo o 800 al livello e mi servivano. Cioè nel senso non erano buttati. Mentre invece li sto buttando. Perché buttato? Perché? Cioè nel senso non è che non avevo tutti i draghi da mangiare? Sì, 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 sì. Però, ad esempio, c'ho un pacelo esperto. Gorgonus ha fatto un solo livello ma la cosa che veramente più fa impressione a parte non ce l'ho neanche in squadra. Dov'è? Scambia. E Meaten a livello 33 cioè che non chiede più XP e Meaten mangia 926 di cibo e anche a livello prima mangiava a 9,20 a livello prima a 9,10 cioè nel senso non è che cambia così tanto sono riuscito a dare 900 di cibo come facendolo rimbalzare magari una volta o anche due volte ma è dalla settimana scorsa che si trova cibo e io dalla settimana scorsa ho portato Meaten dal 28 al 33 ho portato Shompa dal 26 al 30 e ho portato, non mi ricordo, Scorchil almeno altri tre livelli uno di Gorgonus non so quale anche altri draghi quindi perché proprio si trova veramente tanto cibo e infatti ho detto ma che sarà successo? Ecco, volevano farci la fregatura perché almeno dico andate a mangiare a quelli che vi servono così poi dovete sprecare il cibo su quelli vecchi perché dico quelli vecchi infatti ad esempio in squadra ho messo Clotiletius Meliolane pure si può vedere qui perché con un attacco mi arrivano già a livello 5,6 quindi faccio per 5,4, per 3 e già ce l'ho, che ne so, al 12 il drago quindi ben venga e chiedono poco di cibo perché ad esempio chiedono 139 io 139 ce l'ho sempre andata a mangiare faccio, che ne so vabbè, mica sempre però 3, 4, 5 attacchi perché di solito si beccano massimo, massimo sui 20 ho visto poi dipende molto per carità c'è la produzione del 50% sulle fattorie di base e nel weekend arriverà al 100% e in più noi potremmo aggiungere un boost del magazzino spingendo su questo pulsante io ne ho solo due me li tengo sinceramente per il weekend perché vorrei fare il massimo al 100% magari da venerdì sera a domenica sera più o meno è questa l'idea si ottengono punti però anche per XP trasferiti quindi ad esempio se noi andiamo su un drago con il fatto di rubini quindi mi dice trasferisci XP per trasferire ad esempio adesso 3 milioni 2 milioni e 3 quello che manca mi chiede 3 mila diciamo 4 mila rubini questo quindi io proprio lo sconsiglio perché poi bisognerebbe dargli da mangiare per il cibo quindi veramente per trasferire gli XP sono ogni 7 XP trasferiti un punto poi per quanto riguarda invece i draghi sul trespolo allora vediamo quanto sono in evento così almeno facciamo proprio una dimostrazione in diretta di punti ne ho 108 mila andiamo sul trespolo drago lo sfamiamo con questo pulsante sotto quindi vado di nuovo ancora due volte ecco adesso dovremmo aver fatto 14 mila di cibo quindi 1400 punti in teoria e infatti sono 109 mila punti anche facendo questo giochetto potenziando il drago sul trespolo si fanno dei punti però veramente è una cosa minima nel senso proprio se uno dice che sto andando a dormire la sera ho appena andato a mangiare un drago mi avanzano 20 mila di cibo poi io comunque ho ancora i verdi perché non ho mai potenziato troppo perché durante l'avventura fortificazione non è una cosa che paga bene per le cose che voglio fare io ovvero i punti non l'ho mai cortato su se avanza però poco cibo ad esempio i draghi oro chiedono sui 20 mila mi pare 17 mila i draghi platino sui 44 e i draghi leggendari platino chiedono sui 44 quindi nel senso è buono è un surplus avanza un pochettino di cibo tac tac qua si fanno quei due punticini insomma che possono essere comodi quindi il mio consiglio è fate attacchi 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 poi se avete la possibilità mettete ovviamente il busto del magazzino che oltre a produrre il doppio delle fattorie nel weekend quindi si produrranno il 100% in più noi possiamo mettere un altro 100% in più nostro e quindi si massimizza tutto nel stesso momento io credo che sia la cosa migliore perché comunque aumenta molto velocemente il cibo poi magari uno nel weekend ha più tempo di stargli dietro entrare a riscuotere le fattorie per non farselo rubare e quindi è importante mettere il boost più il boost che sarà naturale ma il boost nel magazzino farà anche aumentare il protetto quindi ad esempio adesso di protetto ecco di legno 93.000 mi tiene un decimo della protezione della capienza totale nel cibo sarà uguale con il boost si triplica questo protetto quindi ad esempio da 93.000 io ci avrò 280 protetto e anche questo magari nel senso può è una cosa importante quindi consiglio fate qualche attacco usate qualche pacchetto e e via aprire casse oro o meno sì direi che magari perché ne ho sentito parlare bene di queste casse io ne ho comunque tante e me le volevo tenere per l'evento delle terre io credevo ci fosse quello delle terre però forse è probabile che qualcuna ne aprirò insomma anche in relazione a quanto arrivo tenendo conto che sono che ce l'ho già gratuita insomma ce l'ho già a posto quindi se avete dubbi potete scriverli qui sotto nei commenti se vi è piaciuto il video mettete un mi piace se non siete iscritti al canale iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video ciao